Denaro contante nascosto persino nei muri, dietro bottiglie di vino pregiato in una lussuosa villa di santo spirito. Questo solo uno dei particolari emersi dall'indagine della Direzione Investigativa Antimafia di Bari, che questa mattina ha eseguito un sequestro preventivo di beni del valore di 31 milioni di euro nei confronti di 28 persone nel corso di una maxi operazione antiriciclaggio, che ha riguardato 29 società con sede a Milano, Bari, Roma e Taranto, 12 mobili ubicati a Biella, Vercelli, Milano, Bari e Teramo, 4 ristoranti a Bari e provincia, 100 conti correnti, assicurazioni e fondi pensioni, 13 auto e moto, tra cui una Porsche Cayenne. Il provvedimento di sequestro preventivo per equivalente è stato emesso dal GIP del Tribunale di Bari Antonella Cafagna su richiesta della DDA. Secondo quanto accertato dagli investigatori e organi inquirenti, tre persone tutte pugliesi, l'imprenditore di Bitonto Francesco Giordano, specializzato nel settore della lavorazione delle carni, insieme a Francesco Putignano, legale rappresentante di alcune società coinvolte nei reati tributari accertati e il pluri pregiudicato ritenuto dagli investigatori affiliato al clan Parisi, Emanuele Sicolo, avrebbero ripulito il denaro frutto di reati tributari grazie a società cartiere intestate a prestanome e alla collaborazione della criminalità organizzata barese. Scoperto così un giro di fatture false ed evasioni fiscali per oltre 26 milioni di euro da parte del consorzio SG Cons Spa di Giordano, nella cui villa nel novembre 2017, abbattendo i muri dopo giorni di ricerche, furono trovati quasi 4 milioni di euro divisi in pacchi sotto vuoto da 50 euro. Altro denaro fu trovato anche nel cammino, nel vano ascensore della stessa casa, nonché in valigie, pareti, intercapedini di abitazioni, borsoni del Bitonto Calcio e persino vani occulti di auto. Giordano, già in carcere da alcuni giorni, nell'ambito di un'indagine parallela della Procura di Milano per frode fiscali, che ha portato anche al sequestro della società del Bitonto Calcio, di cui l'arrestato era l'amministratore, è ora in custodia cautelare anche su disposizione della Didia di Bari. Il flusso di denaro calcolato ammontava settimanalmente ad alcune centinaia di migliaia di euro. I fatti contestati risalgono agli anni 2014-2017. L'attività del consorzio operante a Milano era diretta e organizzata da Bitetto, città in provincia di Bari, dove assiede una delle società riconducibili alla figlia di Giordano Raffaella, indagata a piede libero in queste inchieste insieme con il commercialista Francesco Paolo Noviello e altre 23 persone.